Trionfa, l'audace Galluzzo. Nel campionato di prima categoria Girone B, la squadra del tecnico Morandi fa saltare i tappi allo spumante con tre giornate d'anticipo. La vittoria del campionato è arrivata superando nel derby i vicini di casa del Ponte Rondinella per 3 a 2. Una cavalcata trionfale per il giallo-blu, capaci di non anellare 20 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, segnando 46 gol e subendone appena 24. Numeri record per una squadra capace di ripartire alla grande dopo la sconfitta sul campo della contendente numero 1, vale a dire il CF 2001, ad inizio il girone di ritorno. Una sconfitta che ha fatto da stimolo per una rimonta davvero trionfale, culminata anche con il calo di tutte le dirette concorrenti. Ha vinto meritando l'audace Galluzzo, ha vinto perché era la squadra più forte, perché è stata la squadra più continua. Vince una squadra della provincia di Firenze, mentre le magnifiche 8 della provincia di Prato si riccano le ferite. Chapeau per l'audace Galluzzo.